Ehi, che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Ed è un orlondo, sai che io ti troverò, ovunque tu sarai, ti triggerò. E stringerò il controller fra le mani, mentre cercherò il tuo hitbox, che splendido nell'ombra apparirà. Limpato come adesso, non lo sono stato mai. E quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia clima arriverà. Ma va, 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 va. Ma va. Ecco fatto. Beh. E' terribile. lo prendo come un complimento buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti ben ritrovati su Wesa Twitch spero che sentiate dovreste sentire grazie da Imax Paolo grazie mille del Prime e bentornati bentornati ragazzi c'è tutta una grafica nuova qua nella chat grazie Krimr e grazie Andre Shanu grazie mille ragazzi del supporto chi segue su Instagram sa che oggi si riparte grazie JRC benvenuti a tutti grazie a Salitore e quindi io so chi scrive il primo messaggio tipo Almorici è il tuo primo messaggio nella chat e Obokid94 grazie mille anche a te bella a tutti vedo nomi assolutamente notissimi bella Frauenarts grazie del Prime bella bella lì ragazzi ben tornati ben tornati si riparte ma ne ho veramente voglia tra l'altro incredibile quanto durerà non lo so grazie ImagineKind grazie mille del del supporto il pendolo come scriveva qualcuno ricomincia a pendolare e non credo grazie Andre grazie mille del Prime il cavo è colpa del mio cervello sono io che ho sbagliato tra l'altro l'ho preso anche sbagliato il cavo ma va bene lo stesso adesso non ci crea problemi e ovviamente sono qui soltanto per finire Persona 5 bell'apprendista grazie grazie mille e tra l'altro io vi leggo lì ma in realtà vi posso leggere anche mi trovo bene a leggere lì benvenuti 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 ragazzi live con il drone in realtà io sono sul drone in questo momento e è nulla ragazzuoli vi vi ringrazio per essere connessi è passato è passato un po' di tempo vi dico la verità non so neanche quanto tempo sia passato grazie Luolan grazie mille del Prime non so quanto tempo sia passato non so che cosa sia successo nel frattempo anzi vi chiederò poi adesso con calma di di aggiornarmi e vi dico così perché in realtà sono già stato parzialmente aggiornato su su novità mega galattiche ma insomma chiederò chiederò a voi di che cosa che cosa è successo bella vapore grazie Garu grazie Snaporaz grazie ragazzi grazie mille del supporto grazie anche grazie Pagliaio grazie del Prime devo dire che ringrazio prima di iniziare questa live c'erano 25 abbonati al canale ora queste 25 persone grazie Pierre3 grazie del Prime queste 25 persone le ringrazio moltissimo perché si sono abbonate e credo credo sia una persona che si sono continuate ad abbonare quindi grazie 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 e si si può abbonare anche se non stream sì sicuramente sì è chiaramente un gesto sulla cui sensatezza potremmo discutere ma che chiaramente richiede un ringraziamento speciale grazie Manu Phoenix grazie mille del Prime e grazie Kafka bella lì complimenti anche per i tuoi racconti grazie Greg insomma adesso poi partiamo grazie Kjeldor vi ringrazio molto siete molto 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 gentili non è una live spot cioè ora vi parliamo di programmazione esatto colori smorti grazie Claudio grazie grazie anche a te una cosa purtroppo non ho le cuffie sono un imbecille non ho le cuffie quindi la live di oggi non guardiamo roba su YouTube non sto sentendo immagino ci siano tantissimi suonini in questo momento ma non ne sto sentendo nessuno e quindi la prossima la facciamo con le cuffie e quindi con i suoni grazie Allered grazie mille del Prime che cosa vi volevo dire e si riparte grazie Carota Kid grazie Angelo grazie mille anche e soprattutto dei tuoi articoli su Silicon e cosa vi volevo dire ripartiamo voglio fare una programmazione nuova e dobbiamo soprattutto discutere questa live di oggi che è il 10 gennaio del 2023 è una live di brainstorming nel senso soprattutto a chi è più affezionato a chi segue di più insomma uniamo i cervelli forse ne facciamo uno tutti insieme e decidiamo che cosa fare sia da un punto di vista adesso vi dico che cosa facciamo sicuramente e poi non sono più abituato a parlare leggendo una chat è stata allucinante grazie Frabul grazie mille del Prime e delle canzoni grazie Fadaward grazie del Prime e quindi si riparte e vediamo insomma quanto cazzo è strana la chat tutti questi voi li vedete queste strane cose questi riquadrini comunque grazie Alijazira grazie mille del Prime e la cosa che voglio fare per riprendere un pochino ah è solo per lo streamer ok 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 magari la levo sta roba perché in realtà la preferivo più minimale che cosa vi volevo dire prima di tutto voglio streamer e mod ok 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 grazie mente con torta e grazie anche Renegade grazie mille del Prime ragazzi sicuramente allora partiamo dalle cose sicure martedì e giovedì ore 14 live talk questo da qui finché fa troppo caldo grazie VisFuror grazie mille del Prime anche a te questa è l'ossatura ossuta naturalmente sì si va tutto su Cantina Uesa come sempre naturalmente quando non sarò qui questo non accadrà quindi nel caso di decesso le live finiranno mi piacerebbe grazie Empedocle grazie del Prime mi piacerebbe promettervi una prosecuzione delle trasmissioni post-mortem ma dovrei credere dovrei credere veramente fortissimo nella vita dopo la morte e quindi non posso farlo quindi se schiatto le live finiscono ma soprattutto come già vi dicevo questo è l'anno il 2023 è l'anno che bella bella Mr. Rip questo è l'anno che andrò in Giappone andrò in Giappone e andrò in Giappone nel adesso non abbiamo ancora preso i biglietti andrò in Giappone comunque nel mese di maggio o forse fino aprile-maggio comunque una cosa di questo tipo e quindi ovviamente quando sarò lì non farò live insomma questo è chiaro ma insomma vabbè vi aggiorno però per il resto faremo faremo le live andrò in Giappone con l'amico invisibile svizzero che ah tra l'altro Mr. Rip ho conosciuto una persona che ti conosce ho conosciuto in Svizzero grazie Manza Wanza perché il mio amico è un ingegnere lui si occupa di business comunque sempre informatica e cose l'intorno ho conosciuto un suo amico italiano che lavora in Svizzera che ha vissuto in Giappone che ti conosce però non mi ricordo come si chiama e quindi c'è una persona in Svizzera che ti conosce questa è la grande informazione che ho per te lui ha lavorato in una città giapponese che non è una delle solite ma che non mi viene in mente vabbè insomma comunque era molto gli ho fatto una mega impressione dicendogli che ho addirittura intervistato Mr. Rip e comunque bla 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 verrà con me in Giappone il mio amico Svizzero che è un amico invisibile come avete visto se qualcuno di voi ha visto l'ultimo video nel senso che lui si occupa anche di privacy e non è una persona che vedrete mai apparire in carne ed ossa nei miei video però comunque andrò insieme a lui lui credo starà una settimana io vorrei fare di più decisamente decisamente di più il piano non abbiamo ancora preso i biglietti quindi tutto ciò è assolutamente campato in aria però ci siamo ormai il piano è andare però direttamente a Kyoto quindi non andrò potrei sempre farci una capatina però non credo che in questo mio primo viaggio andrò a Tokyo un po' perché lui c'è già stato e abbiamo deciso di fare Kyoto e sud del Giappone se riusciamo a fare come vogliamo poi vediamo insomma e e quindi sì faremo lo spero lo spero lo spero lo spero e faremo faremo Kyoto e insomma naturalmente andrò alla sede della Nintendo che però chi di voi qualcuno di voi forse saprà che c'è già un 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 video ambientato in Giappone su Wesa Play il video era la mini storia del Super Nintendo in cui un mio amico che andò a Kyoto con fortissimo accento bolognese grazie non lo faccio più tra l'altro con fortissimo accento bolognese lui era a Kyoto e fece una mini intro dedicata al canale davanti al parallelepipedo grigio bianco con la scritta Nintendo di fronte al quale ovviamente mi emozionerò senza nessuna buona ragione esatto esatto bella Rikkimaru grazie mille grazie mille e quindi niente questo sarà un anno così vi dicevo farò le live finché non fa troppo caldo e quando fa caldo si fa una pausa e poi ci si pensa quindi ossatura di base facciamo martedì e giovedì alle 14 e poi non c'è solo questo naturalmente vabbè degli extra si fa sempre in tempo mi piacerebbe mi piacerebbe fare una blind run per riprendere un pochino le vecchie abitudini mi piacerebbe fare una blind e vorrei fare una blind di un titolo Outer Wilds l'ho già giocato comunque ci penso non dovete dirmelo voi perché se no non riusciamo a vivi comunque accetto proposte una blind di un titolo che non sia troppo hardcore a livello di azione ma neanche che sia solo testo a schermo da leggere vorrei trovare una via di mezzo che si presti bene e ho visto di recente un articolo sul sito di non mi ricordo credo fosse Kotaku uno di quei siti lì Superwalk che parlava dei giochi dell'anno era pieno di roba indie veramente veramente carina e quindi prescherò un titolo di quel genere lì roba da live mattutine da dieci persone connesse però lo voglio lo voglio fare perché è una cosa che mi è mi è sempre mi è sempre piaciuto fare in realtà e quindi va bene va bene insomma Death Stranding 2 ho letto ho letto che ci stanno cioè più che ci stanno lavorando c'è già un trailer tra le altre cose l'altro giorno passavo qui davanti a Galleria Cavour qui a Bologna che c'è il negozio di può essere Louis Vuitton uno di quei di quei marchi e c'era una foto di Lea Seidu che forse ricorderete nel ruolo di non mi ricordo come si chiamava in Death Stranding e vi dico vi dico grazie a Fran e grazie a Mr. Rivo vi dico che penso sia la donna più bella vivente oggi è la mia nuova la mia nuova preferita grazie Ghost Paranoia grazie mille del Prime Fragile Fragile esatto esattamente esattamente veramente veramente la genetica e gli stilemi di una eterosessualità che non si che si intestardisce di una di una testarda eterosessualità insomma la trovo veramente una bonazza inenarrabile comunque va bene intanto vi leggo per quanto riguarda per quanto riguarda Anna De Armas Jaco anche tu avrai visto il film su Marilyn Monroe che si chiama Blonde tipo che sta su Netflix e tra l'altro è un bel film un gran bel film devo dire sinceramente ve lo straconsiglio lo trovo un film fantastico lei si è un'altra un'altra bellissima donna però se devo dire delle due preferisco la Lea Seidu grazie mille Dnil Dnilnz grazie del Prime e della leggibilità del tuo Nick e e quindi e quindi così questi mesi io non mi ricordo però di quali mesi stiamo parlando perché non mi ricordo quando ho fatto la live precedente ve lo giuro questi mesi dove siete e questi mesi ho fatto cose ho cazzeggiato molte cose sono cambiate nella vita mia in meglio o in peggio io credo in meglio però insomma molte cose cambiano però vorrei evitare grazie a rilevanza almeno ho visto sì esatto grazie mille a rilevanza vorrei evitare di fare il gossip di tracimare con la parasocialità quindi le mici stanno benissimo le mici stanno benissimo che cosa che cosa vi volevo dire libri non ne ho quasi letti a proposito di Byung Chulano ho letto ma l'ho mollato a metà perché mi sono rotto il cazzo dice sempre le stesse cose autore che non disprezzo ha fatto anzi però mi hanno portato le balle ho letto per nottetempo è uscita una raccolta di interviste mini articoli ma se mi posso permettere sono cose che arrivano al massimo al 2018 19 una cosa del genere io credo che loro abbiano un'esclusiva temporale stiano un po' ravanando il fondo del barile perché quest'autore vende mi sono fatto questa idea qui ci sono cascato come un pollo non valeva assolutamente la pena di prenderlo poi letture 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 ah letture non proprio grazie mister dromedario grazie mille del prime le non cose l'ho letto sì ed è un bel libro sì 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 mi è capitato mi è capitato grazie jumpy grazie del prime anche a te di recente sto giochicchiando a un libro scusate a un gioco senza fondo ci gioco dal giorno 2 che è marvel snap che è del creatore di earthstone o uno dei una delle menti creatrici di earthstone ed è un gioco diabolico perché è veramente diabolico ed essendo molto carine le art di questo di questo giochillo mi sono fatto l'abbonamento mi sono fatto l'abbonamento a come si chiama mi sono fatto l'abbonamento a marvel unlimited ecco grazie bruschi mi sono fatto l'abbonamento marvel unlimited che è un un app ma è un sito insomma dipende uso l'ipadone o l'ipad pro quello da 12 pollici che è perfetto è un sito nel quale si può consultare il catalogo dei fumetti marvel tipo tutti i fumetti mai esistiti non proprio però insomma più di quelli che avrò mai voglia di leggere e non non ero appassionato e rimango assolutamente non appassionato grazie a remorast alcune cose davvero non sono proprio non è non è mai cup of tea ma ci sono dei capolavori nel senso che lì si può leggere silver surfer parabola quello di stan lee scritto da stan lee illustrato da mebius da mebius ma ho scoperto almeno due altri capolavori uno the vision di auto è che detta così ce ne saranno mille quello che visione si fa la famigliola nella periferia del midwest americano ora magari qualcuno di voi lo conosce bellissimo mi è veramente piaciuto ma ancora di più mi è piaciuto e quest'ultimo l'ho messo anche sull'uesa shop mi è piaciuto silver surfer black bello devo dire che silver surfer si presta come personaggio a cose un po' mistico psichedeliche eccetera eccetera però molto molto bello molto bello veramente veramente spettacolo e invece per il resto lui ti consiglia un po' tipo da dove iniziare leggi qui leggi lì ho letto uno spiderman tipo amazing un reboot di spiderman di una ventina d'anni fa una cosa del genere carino si legge poi quando iniziano ad arrivare capisci che sarà nuovo nemico nuovo nemico ho smesso non me ne fregava un cazzo ho letto una 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 serie autoconclusiva sul personaggio di Electra perché dovete sapere che Electra è un personaggio procace sul personaggio di Electra non ricordo assolutamente il nome di questa di questa piccola serie disegnatore o disegnatrice non ricordo strauride veramente disegni magnifici però a un certo punto ho iniziato a guardare solo le figure per arrivare alla fine perché era illegibile una monnezzona come quasi tutta la roba che c'è lì dentro però vabbè insomma alcune cose sono carine ci sono anche gli storici fumetti illustrati da Kirby che è uno dei grandissimi padri del fumetto illustratore storicissimo quindi c'è un sacco di roba insomma ed è costato tipo 50 dollari un anno di abbonamento sti cazzi per uno che è abbonato all'NFL per più di 300 euro ci può stare anche abbonarsi e quindi esatto maggioranza l'ultima ricerca che ho fatto ma non ho ancora iniziato mi è venuto in mente che c'è anche Frank Miller e sì Batman di Frank Miller l'ho letto l'ho letto il ritorno del cavallero oscuro bellissimo ho visto che lì su Marvel c'è Dare Devil Dare Devil di Frank Miller e quella è la prossima cosa che mi leggo mi sono già letto due o tre tavole quello deve essere figo quello lì deve essere molto figo e quindi siamo un po' di un po' di rimeo ho visto The Prince That Was Promised ma insomma l'NFL non credo che che attiri rinascita la rinascita di sempre di quel personaggio lì è solo che lì non c'è la DC c'è solo Marvel c'è solo Marvel esatto bene 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 quello me lo leggo adesso quello me lo leggo adesso e sto Avatar 2 non l'ho visto non l'ho visto mi ricordo che qualche tempo fa qualche mese fa fresco di buona memoria mi sembrava mi sembrava nel mio passato perché lo vedi al cinema all'epoca che Avatar 1 fosse un film tutto sommato carino carino per quel genere lì e me lo sono rivisto e ho detto ma perché mi era piaciucchiato cioè veramente mazza vedere il 2 non ho cuore non ho veramente non ho veramente cuore grazie a Strapattone sono tornato veramente martedì e giovedì ore 14 per iniziare e quindi e quindi mi sono di vedere di vedere il 2 non ho nessuna voglia forse sì forse al cinema era figo sì 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 non mi ricordo se lo vedi in 3D forse sì c'è stato un periodo che si guardava sempre in 3D ma non lo so io Outer Wilds l'ho già giocato e ci abbiamo fatto anche una live a tempo addietro e quindi insomma non ho avuto come ma vi ricordate mi ero ripromesso di non avere una così intensa attività culturale quindi non è che poi ho tantissima roba da indicare mi sono guardato il football mi sono grattato la panza però c'è una c'è una cosa interessante c'è una cosa interessante di cui di cui discutere magari se avete se siete esperti di fumetti e conoscete delle perle Marvel da recuperare se vi va di scrivermi un messaggino su Instagram mi fate un super favore c'è però una cosa molto interessante non è una cosa per specialisti quindi non temete vi basti sapere che in America negli Stati Uniti d'America c'è un grande personaggio dello sport un messi del football che si chiama Tom Brady è il più famoso giocatore di football sette volte vincitore del sub bla bla 20 anni e passa di carriera 45 anni gioca ancora sappiate che uno sportivo in America stra super turbo iper ultra famosissimo ok mega successo mega famoso ed è un bel tipo adesso non è più un ragazzo è un uomo però un bel ragazzo un bell'uomo quindi insomma un classico bellone quarterback di football americano ed è stra famoso ok guadagna un pozzo di soldi eccetera tutta questa premessa per dire che lui era è una storia forse qualcuno di voi forse qualcuno di voi sa già come va a finire tutto questo per dire che lui era sposato con Giselle Bündchen di cui spero di non dovervi spiegare chi era chi è ex top model di Victoria's Secret quindi non non devo aggiungere nulla perché la selezione genetica era già molto molto stringente grazie mille Pisacana e grazie mille del Prime e quindi lui era il marito di Giselle Bündchen naturalmente Giselle Bündchen under 25 fu la fidanzata di Leonardo Di Caprio sapete tutti benissimo perché ormai è diventato un meme la regola di Leonardo Di Caprio quindi la passò insomma si lasciarono e poi finì con Tom Brè vabbè tutto questo per dire che stava sposato con Stacuino fatto dei figli bla 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 lui oramai vecchio cioè 45 anni per uno che gioca a football doveva e ha anche riuscito a vincere un titolo tipo due anni fa doveva mollare lo sport per stare con la famiglia si ritira dice mi ritiro per stare con la famiglia che cosa succede? succede che non è mezza voglia di stare con la famiglia e quindi si si ritira e ritorna a giocare e quest'anno ha giocato pure un'annata di merda e hanno divorziato e quindi ha tra virgolette perso la moglie per continuare a giocare a football dove già il più vincente di tutti i tempi e nessuno potrà mai uguagliarlo ma gli piace tantissimo giocare a football e tutto questo per dire quindi che Tom Brady è rimasto così ha continuato a giocare è una delle peggiori annate con una squadra di merda tutti infortunati hanno fatto schifo anche se sono ai playoff e quindi giocheranno ancora e bla 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 e uno dice madonna che cazzo ma chi te l'ha fatto fare? la signora è libra Evan East quindi ti invito a e quindi uno dice ma allora allora di cosa stiamo parlando? una una sofferenza allucinante come il nostro utente in chat invece che cosa scopro da appassionato di queste stronzate? si scopre che il buon Tom Brady ha un intercorso con un'altra un'altra tizia una 26enne e vabbè cosa ce ne frega? in realtà tutto questo avrà un risvolto etico una 26enne top model eccetera che cosa si scopre? io per una mera curiosità antropologica mi reco esatto Federico mi reco su Instagram ma davvero grazie 900 grazie del premio semplicemente per così perché è uno sportivo di valore allora mera curiosità per vedere un po' le fattezze di chi si tratta chi è questa 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 modella e non mi ricordo il nome Veronica qualcosa non mi ricordo assolutamente il nome questa persona si vanta nella biografia su Instagram di essere no di essere certificata plastic free cioè esiste un posto credo in un paese arabo non sto scherzando non sto scherzando fate ricerca lo scoprirete meglio di me esiste un posto in un paese arabo come potrebbe essere il Qatar ma forse dico Qatar sono i prezzi stati mondiali non mi ricordo si chiama Veronica cerca Tom Brady Veronica con la K e trovi tutto questa persona si è fatta bravissimi bravissimi bravo Fuyu si è fatta certificare da un medico perché tu la vedi e dici vabbè ma questa chiaramente è rifatta si è fatta certificare che è 100% eco bio plastic free e io niente questo volevo condividere con voi che come per chi di voi ha visto il video dalla Svizzera c'era quella quella scultura lì su a Montreux sul lago di Ginevra con questo personaggio che sembra tipo quelli di mordillo con questo sacco pieno di bottiglie di plastica per sensibilizzarci al discorso della plastica anche se poi Bressanini doce caso per caso la plastica non va demonizzata a 360 gradi eccetera comunque questo già lo sappiamo ma per dire che c'è una persona che questa etica l'ha portata sino la porta nel proprio corpo capito certificata niente questa era una cosa che a me è piaciuta tantissimo e quindi Tom Brady capito ma voi vi immagino io vi immagino questo ma voi siete Tom Brady siete negli Stati Uniti siete l'idolo di tutti lo sportivo proprio dell'America bianca un po' in odore di Trump perché lui comunque era amico di Trump aveva mezzo fatto un endorsement a Trump ma Giselli dice meglio che stai zitto che non capisci un cazzo eccetera tu sei lì e sfogli un Instagram formato super accesso gold a questa a plastic free e lei avere messo il plastic free probabilmente ha funzionato tutto questo per dire che boh non so in ogni caso al di là di questi di questi discorsi secondo me è interessantissimo sì sì l'ho visto l'ho visto Dandy in realtà è interessantissimo quello che stai dicendo in realtà è interessantissimo allora cosa succede questa è un'altra cosa che a me ha fatto molta molta impressione e mi ha fatto mi ha anche dato un po' fastidio allora di recente c'è stata una partita un tizio ha avuto un infarto per un contatto sul petto ma un contatto minimale niente di quello che succede di solito questo ragazzo un ragazzo di 24 anni è crollato a terra ha avuto un arresto cardiaco l'hanno soccorso è portato all'ospedale non so neanche se si possa già definire fuori pericolo ma comunque ha ripreso conoscenza eccetera credo si sia salvato da Mar Hamlin esattamente questa cosa qui in diretta negli Stati Uniti vista da milioni di decine di milioni di persone perché era un giocatore di una delle due squadre più forti c'era questo mega match tra due squadre fortissime e quindi c'era tutta l'attenzione degli Stati Uniti e ovviamente ha avuto un grandissimo impatto emotivo questo ragazzo che crolla la partita è stata prima sospesa e poi annullata e c'è stata una gara di solidarietà dovuto al fatto che questo ragazzo aveva non mi ricordo come si chiama il servizio per cui puoi fare delle collette di beneficenza online ma roba che aveva raccolto 2500 dollari una cosa del genere per comprare dei giocattoli a un ospedale lui non famoso per quanto giocatore di livello eccetera eccetera credo si siano superati 6 milioni di dollari di donazioni perché c'è stata una grande onda emotiva di vedere questa scena terrificante del ragazzo a terra eccetera eccetera la cosa molto crowdfunding si era un crowdfunding ma ha un nome questo sito che lui usa ma vabbè adesso non ci interessa la cosa che mi ha molto molto colpito è stata il tormentone per così dire della preghiera pregate per Hamlin come si chiama Damar pregate per Damar pray for Damar pray for Damar eccetera eccetera esattamente esattamente pagliaio esattamente ti dico che la finestra temporale in cui è stato colpito credo che sia addirittura di pochi millesimi addirittura ed è una cosa che se ti beccano in quel momento puoi avere un arresto cardiaco assurdo veramente assurdo una sfiga incredibile insomma se la si è buttata molto sulla preghiera preghiamo per Damar preghiamo per Damar e quindi tutti a dire preghiamo preghiamo mega campagna online sempre la preghiera la preghiera la preghiera tanto più che addirittura un conduttore della ESPN il canale sportivo bla 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 americano cavalcando quest'onda di incredibile attenzione e popolarità diciamo di questa persona e di questo evento addirittura ha improvvisato una preghiera indiretta voi immaginate vi state guardando una trasmissione sportiva questo si mette a pregare ok ok quindi c'è questa cosa che pregare pregare e gli americani ce l'hanno adesso è brutto generalizzare così però madonna non ho visto molte obiezioni ecco guardando anche un po' su twitter eccetera come se pregare fosse fare qualcosa che è una cosa che mi ha sempre molto colpito insomma tecnicamente è fare qualcosa ti metti in una certa posizione pronunci determinate parole però insomma da qui a pensare che possa non si capisce quale sia il tramite dell'efficacia di questo di questo gesto apotropaico e quindi questa cosa mi ha molto colpito mi ha molto colpito il richiamo alla preghiera costante mi ha molto colpito anche il grandissimo conformismo uno dice beh un ragazzo di 24 anni crolla al suolo siamo tutti d'accordo poverazzo speriamo che si salvi questo è ovvio ma nell'essere tutti d'accordo e questo mi ha ricordato tante altre cose della mia esperienza online degli ultimi anni nell'essere tutti d'accordo si crea una gara a chi dice più forte vedi la rivista televisivo che si mette a pregare improvvisando una preghiera lui non un prete immaginatevi un giornalista sportivo qualsiasi si crea una gara a chi dice più forte la stessa cosa una gara a chi è più buono a chi mostra di essere di più nel bene rispetto agli altri e immediatamente e questo l'ha notato il mio influencer preferito ma adesso vi parlo anche del mio influencer preferito e immediatamente tra super zelanti iper buoni diciamo così ma stai pregando abbastanza? sei abbastanza buono anche tu? che cosa succede? una bontà prepotente aggressiva esattamente talmente unanime che non può tollerare nessun tipo di sfumatura ora che cosa c'è da dire di un ragazzo che crolla? stai bene recupera non è che ci sia tanto da dire ma tu senti questo questo coro così forte così violento lo vedi dal fatto che tantissime personalità essendo che io seguo queste stronzate tantissime personalità della televisione americana sempre molto tu contro di me eccetera che sapete il conflitto eccetera eccetera che crea audience e fa figo tantissime di queste personalità strafamose in America tutte a dire le stesse cose tutte attentissime a stare esattamente nei ranghi ci sono quelle frasi che devono essere dette sul preghiamo per il football non conta più niente conta solo l'essere umano ma certo siamo d'accordo però boh questo ripetere queste formule in modo ossessivo e va bene che cosa succede? è successa una cosa che mi ha fatto senso nel dovete sapere che molti di questi personaggi della televisione americana seguono gli eventi sportivi su Twitter alcuni di questi twittano a rotta di collo che cazzo ne so c'è una partita c'è un fallo l'arbitro ha sbagliato bella azione magari uno ha twittato semplicemente bella azione ma se tu non stavi seguendo in quel momento non capisci che cosa voglio dire gente che segue così un tizio molto famoso tale Skip Bayliss bravissimo bravissimo twitta beh ma adesso sta partita è un casino perché è una partita decisiva per vari motivi come potranno piazzarla l'NFL come si organizzerà visto che ora iniziano i playoff bla 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 certo tutto questo svanisce di fronte alla vita del buon Damar per avere twittato nel suo tweet roll diciamo così nel quale dice tutte le sue stronzate su cosa succederà adesso chi vince chi perde bla 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 per avere fatto un tweet di questo tipo in cui prima ha espresso la sua preoccupazione su è mo' la partita e poi ha detto certo cazzo conta rispetto alla vita del ragazzo per avere fatto una cosa di questo genere voi non avete idee ma sì che ce l'avete voi avete benissimo idea di quanto questo tizio si è preso la più grande la più grande shitstorm odiare Lebron non gli ha portato nulla rispetto a questo la più grande shitstorm che si sia mai vista una cosa allucinante ha dovuto specificare scusarsi dire che ovviamente ritiene più importante la vita della persona rispetto alla partita eccetera eccetera ma gli insulti gli insulti pretesa di radiarlo delle cose allucinanti che cazzo avrà mai detto nel tweet stesso ha detto che tutto questo non conta nulla rispetto alla vita del ragazzo ma vi ricordate il discorso che facevo prima questa unanimità aggressiva l'unica cosa che si può dire adesso è quella un tweet come quello che lui ha fatto in una situazione in un momento diverso non ha niente di strano ma è talmente sbagliato è stato talmente inopportuno messo nel momento sbagliato è stato tutti non vedevano l'ora di trovare il nemico il nemico è stato devastato veramente devastato ora Tusky Belis non è un personaggio è già un personaggio controverso è un hater di Lebron James quindi sì ti viene anche difficile difendolo certe volte ma a tal punto l'hanno messo in croce per questa cosa e si è dovuto scusare questo che non ammette mai di avere torto uno di quei personaggi molto così che è stato eccessivo cioè anche chi non ha nessuna simpatia per questo personaggio televisivo si è trovato a un certo punto e dire ok regà ma che cazzo avrà mai fatto ma che cazzo avrà mai detto Dio santo e un altro noto conduttore in Ski Belis è vecchio è un bianco vecchio ok un altro e fa lo show con Shannon Sharp che lui è nero ed è un ex giocatore di football eccezionale un altro conduttore tale Nick Wright che è il mio influencer preferito il mio personaggio di internet preferito in assoluto Nick Wright che lavora nello stesso network di Skip e Shannon ha avuto il coraggio di dire prima accennandovi e poi il giorno dopo nel suo podcast ha avuto il coraggio di dire questa è la ricerca del capo espiatorio questa è la ricerca del cattivo e questo è quello che la bigotteria ci porta a fare ed è stato estremamente coraggioso Nick Wright perché seguirlo parla di football e di basket uno può anche sbatterse giustamente però è un personaggio estremamente intelligente grandissimo argomentatore una mosca bianca nel panorama di questo genere di produzioni più volte ma questa volta in particolare mi ha colpito la sua onestà intellettuale vedere questo questo personaggio comunque già parecchio famoso molto esposto avere una presa di posizione di questo genere all'interno di un discorso 20 minuti di monologo che lui ha costruito lui che non ha espresso nessun parere disdicevole quindi poteva permetterselo lui l'ha costruito molto bene esprimendo la sua solidarietà lui da hater ma hater alla tifo americano quindi non è vero odio della squadra di Damar ha fatto delle concessioni che sono risultate commoventi per il pubblico comunque toccanti perché c'è tutta una gag intorno all'odio suo verso quella squadra eccetera eccetera quindi ha veramente costruito perfettamente il discorso si è messo retoricamente in una posizione di nobiltà d'animo per così dire e io ho adorato questa cosa lui l'ha fatto per potersi permettere di dire questa cosa che ce l'aveva qui ma io lo sapevo che ce l'aveva qui infatti dopo che c'è stata la grazie del Sdemona grazie del Prime dopo che c'è stata la sassaiola su Skip Bayless io subito la prima cosa che ho pensato è stata ma Nick Nick Wright che sta vedendo questa cosa la vede benissimo perché suo collega lavorano a un ufficio di distanza cosa penserà di questa roba qui lui lo vede benissimo che questa roba fa schifo ma potrà dirlo se lo può permettere di dire una cosa qua ti giochi la carriera qua tu sbagli un passo Skip Bayless ha già fatto le sue decine di milioni di dollari non gliene frega più un cazzo Nick Wright è sulla rampa d'ascesa lui sta decollando ti permetti di fare questo genere e l'ha costruita talmente bene che è riuscito a dire queste cose senza essere distrutto ovviamente qualcuno gli ha detto come ti permetti di difendere quello che odia Skip Bayless si è anche beccato del razzista immancabilmente essendo bianco ed essendo l'atleta che ha subito l'inf che ha avuto l'arresto cardiaco essendo nero e anche lì Skip si può permettere questa cosa è stata disastrosa ma la sua posizione nel dibattito sportivo è dovuta al fatto che lui da bianco è stato cresciuto da una donna nera lo stesso Nick Wright è sposato a una nera eccetera eccetera voi non avete idea degli equilibri allucinanti che nella televisione americana devono essere tenuti per far stare in piedi tutte queste cose è tutta una questione di io sono legittimato a parlare molto prima di aprire la bocca da una serie di appartenenze che nulla hanno a che vedere con il valore di quello che io sono con il valore che io dico tutte cose che a me fanno orrore e insomma Nick è riuscito è riuscito a esprimere questa sua opinione molto molto complicata vista la grazie dell'assemblea spy grazie mille vista la situazione e mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto ed è un personaggio no no non è un unicum non è un unicum da oggi in poi martedì e giovedì ore 14 mi incuriosisce per il futuro di questo personaggio che riconosco essere una persona estremamente intelligente estremamente onesta e con un grandissimo senso dell'umorismo mi piace molto lui grazie Sdianu grazie del Prime io da appassionato di NBA e di NFL sarò curioso nel corso degli anni di vedere come si relazionerà alle ipocrisie che quell'ambiente richiede e che non può non richiedere per come è costruita la società americana in questo momento che è questi due appuntamenti talk questi due appuntamenti talk poi farò anche blind extra e quindi si si va a vedere si va a vedere qualcosa di non lo so io il dibattito americano la politica americana il dibattito intorno allo sport che è iperpolitico quando no il famoso il famoso i have a dream di martin luther king spero come era spero che i miei figli siano giudicati non dal colore della loro pelle ma dalla qualità del loro carattere una cosa di questo genere è incredibile come in america non sei giudicato dalla qualità del tuo carattere è incredibile come tu devi avere un portafoglio di patenti che ti dischiudono settori argomentativi o di polemica o di discussione pubblica ai quali puoi accedere indipendentemente da che cosa dirai grazie santo cielo grazie al prime la patente plastic free veramente veramente e quindi no nel piccolo nell'irrilevante del pedigree ecco una parola che andavo cercando grazie al vano nel rilevante della cultura sportiva americana che comunque preferisco centomila volte a quella europea si vedono degli spaccati allucinanti e si vede l'uso politico ma che io lo capisco lo giustifico le regole del gioco sono quelle l'uso politico che fanno alcuni atleti per quella che è la loro parte e se vi ricordate quando abbiamo parlato di Dave Chappelle e anche di Ricky Gervais abbiamo fatto una live parlando un po' degli stand up comedian di maggior grido se vi ricordate nel preferire apprezzandoli tantissimo entrambi nel preferire leggermente Ricky Gervais a Dave Chappelle una forse l'unica cosa di Dave Chappelle che io non riesco davvero ad ammirare è l'appartenenza alla comunità e nel suo caso dei neri americani che è qualcosa che grazie albanese che nonostante la satira nonostante tutta l'ironia eccetera eccetera hai sempre noi la nostra community noi la nostra community mi piace pensare che io nasco maschio bianco etero cis nasco divento come volete maschio bianco etero cis parlo per me ma io non faccio parte della comunità dei maschi bianchi etero cis ora uno dirà ma la tua è la comunità dei super privilegiati grazie al cazzo questo lo capisco però non riesco in nessun modo a pensare di dover ereditare un'appartenenza ma in generale anche solo di doverla esprimere per una questione di convenienza voglio dire se tu appartieni a un qualche tipo di categoria che è strutturatis qui si davvero strutturata ed organizzata per difendere se stessa e lottare spesso una lotta tra vittimismi per ottenere privilegi a quel punto che fai? non ti arruoli tra virgolette per accedere a quegli stessi privilegi soprattutto nel dibattito pubblico americano questa cosa è allucinante mi fa mi dispiace un sacco mi dispiace un sacco sì 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 Umberto assolutamente sì assolutamente sì grazie Alessandro esatto esattamente maggioranza cioè la vera la vera libertà la vera tolleranza dovrebbe essere e ne abbiamo già parlato per quanto riguarda i privilegi come erano i privilegi positivi i privilegi del discriminato vi ricordate quel politico francese che diceva che loro sono contro io partivo dandogli torto ma alla fine gli ho dato ragione io e te siamo due persone non dovrebbe mai rientrare nei nostri discorsi una cosa come il colore della pelle la religione o cose di questo genere questo lo sanno tutti ma c'è talmente una gara vittimistica fra discriminati ma tutti possono capite che tutti possono rivendicare una discriminazione sfido chiunque a non far parte almeno di una categoria oggi non toccabile per così dire perché vittima e allora il discorso del guarda che tu sia arabo israeliano nero bianco a me non interessa donna uomo cosa me ne frega come diceva Martin Luther King ti giudicherò dalle qualità del tuo carattere chi se ne porta e invece la giusta giustissima storica rivendicazione delle ingiustizie subite delle discriminazioni subite eccetera eccetera si è rovesciata anzi forse sarebbe giusto dire si è semplicemente evoluta in un vittimismo politico che non non ha nessun senso abbandonare perché funziona e perché anzi è diventato la bandiera di ciascuna delle minoranze discriminate del caso e quindi se ci rinunci tanto che gli stessi privilegiati finiscono per fare le vittime è chiaro se ci rinunci non parli più perché lo vedi il vittimismo l'essere vittima costringe all'unanimità dell'approvazione o disapprovazione secondo il caso e quindi non c'è niente così forte è così e quindi che peccato che peccato perché non vedo via d'uscita mi sembra mi sembra che funzioni da matti funzioni da matti ovviamente domani cambia tutto però al momento questo è lo standard sapete che a me non piace mi dispiace dirlo mi dispiace dirlo certamente a Kafka certo mi dispiace dirlo ma a me non piace il noi io non amo il noi lo vedete anche l'abbiamo già parlato tante volte lo vedete online noi vogliamo questo ora intendiamoci però per me è sempre così un peccato quando una persona si e la parola è fondamentale si sottomette a un gruppo l'appartenenza a un gruppo è inevitabile di volta in volta rientrare in un gruppo ma l'appartenenza a un gruppo dovrebbe essere semplicemente di passaggio tra parentesi argomentativa nel momento in cui ciascuno di noi ha un'opinione poi magari non è sempre il caso di esprimerla però nel momento in cui ciascuno di noi ha un'opinione intorno a qualche cosa diciamo così si ritroverà a fare parte del gruppo delle persone che la pensano così e nel gruppo delle persone che la pensano così di volta in volta potrà trovarsi completamente incluso un intero gruppo come possono essere gruppi religiosi o razziali o quello che è ma se tu sei libero in quel momento fai parte di un gruppo accidentalmente fai parte di un gruppo ma domani potresti far parte di un altro grazie John Chong grazie mille e quindi l'appartenenza a un gruppo ecco diciamo così l'appartenenza a un gruppo dovrebbe sempre essere accidentale e mai strumentale ecco mettiamola così ma conviene talmente tanto è talmente efficace ma perché si crea tutto un sistema soprattutto pensate a un paese come gli Stati Uniti dove magari la sanità non è la nostra proprio a livello di garanzie non sono anche a livelli assicurativi sono incasinatissimi un gruppo può essere letteralmente di fatto un'organizzazione parastatale che ti garantisce un qualche tipo di protezione un qualche tipo di assistenza un qualche tipo di aiuto di cui puoi avere bisogno e da solo non ce la fai questo lo capiamo perfettamente ma è il solito discorso è meno ma è il solito discorso dell'evangelizzazione cioè io ti costruisco la casa ma ti somministro la Bibbia ok comunque sia ci siamo capiti le dichiarazioni ciccio gamer io ho letto ho letto che ho letto su Dago Spia che ciccio gamer ciccio gamer è stato c'è di mezzo l'evasione fiscale una cosa una cosa del genere e ha detto che ci vorrebbe un partito che fa gli interessi della gente ma la gente non ce la può fare vuole il partito vuole il partito unico a posto veramente all'evasione vecchia ok vuole un partito unico il partito degli italiani vuole il partito unico bella in tail ma sono serio che fa il volere del popolo madonna ragazzi che meraviglia il partito unico che fa il volere del popolo siamo quasi all'uovo come era l'uovo di Kurzgesagt ripreso da da Favij siamo lì perché c'è un partito un popolo che è come fosse una persona a un certo punto fai un solo paese con un solo partito che rappresenta un unico popolo è l'uovo è l'uovo di di Kurzgesagt del video di Kurzgesagt quello che dicono gli italiani è meraviglioso è meraviglioso bisognerebbe letteralmente grazie Scaglia grazie Bisognerebbe letteralmente mettere un microfono in tutte le case anzi no case un microfono a ogni persona in Italia a ogni persona in Italia sincronizzarci tutti e dire bene ragazzi ora ora avete un minuto tutti audio acceso ok di tutti gli italiani avete un minuto per dire quello che desiderate sentiamo che cosa vogliono gli italiani ve lo immaginate l'unanimità è così ho visto che ho visto che Elden Ring ha vinto gioco dell'anno se non sbaglio è il successore di Hades se non sbaglio devo dire che ho ricevuto un commento che mi ha fatto molto piacere un commento troppo generoso eccessivamente generoso ho ricevuto un commento all'ultima live che abbiamo fatto su Elden Ring quella che si trova ancora su Esaplay quella che poi fu caratterizzata da alcune invocazioni al luminoso non proprio rispettose ho detto scritto i primi 40 minuti di questa live sono la migliore critica di Elden Ring che si trova sarà dura perché è un hands on o mani sopra però insomma ci sarebbero ancora tante cose da dire mi touch Spiritfarer lo conosco di nome credo di avercelo forse addirittura comprato ma non ci ho mai giocato so che so che no no il luminoso è da nome da nome tutelare so che esiste un è stato creato un sito internet è stato adesso salitore ma ti dico è stato creato un sito internet di critica videoludica con fossetti sabacu e e altri final round final round esattamente 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 e moccia ok e non lo so gabri non lo so lì bisogna vedere che cosa faranno da un punto di vista della novità se saranno ancora se saranno ancora capaci di sorprendere se saranno ancora capaci di rivoluzionare sì sì ragazzi lo ripeto è giusto ripetelo qualche volta nuova programmazione martedì giovedì ore 14 qui su Wesa Twitch per quanto per chi mi chiedeva per chi mi chiedeva di Wesa Channel come ho detto su grazie Iaco c'è una cosa che ogni tanto mi ricordo poi mi scordo cioè quello che si fa si fa insomma se viene un bel video in giro faccio un video in giro però se poi voglio fare un vlog alla vecchia faccio un vlog alla vecchia voglio smetterla di pormi troppo problemi ovviamente il discorso dell'inglese è stato per me non so se ne ho già parlato in live no per me è stato amarissimo è stato veramente puro 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 danno in Kruger pura fase iniziale del danno in Kruger quando capita bisogna ammetterlo cioè è stato veramente io rosico molto per quel fail grazie Kida è stato veramente amaro rendermi conto di quanto non avessi un'idea di quanto fossi incapace porca miseria ci sono rimasto veramente di merda faccio una fatica una fatica a dire quello che voglio dire in inglese che non è un'impresa impossibile come sapete è un'impresa che porterò avanti per i cazzi miei però porca la cioè il mio livello di conoscenza dell'inglese è tale che il video in cui sono riuscito a fare un mezzo monologo che è quello di Kikomori è pieno di errori ma errori che vedo anch'io cioè quando ho montato il video ce li riconosco anch'io ma siccome ha vagamente un senso l'ho tenuto ed è una delle pochissime volte in cui sono riuscito veramente a fare il discorso che avevo in mente perché di solito quando parlo in inglese sono talmente ignorante che dico qualcosa che riesco a dire che non è quello che avevo in mente di dire ma almeno questo sono riuscito a dirlo no cazzo troppo poi altro altro errore è stato proporlo allo stesso pubblico perché comunque senza offesa è un feedback che non mi interessa perché il feedback di chi mi supporta va bene ma magari il feedback di chi mi sfancula ok mi serverebbe un feedback di uno che non mi conosce quindi in ogni caso è una cosa che come vi dicevo farò ma la farò per i fatti miei senza annunciarla a nessuno un giorno magari qualcuno mi scoprirà ok ma non non devo farlo così ma chi se ne frega come sempre ci stava a provare io vi invito vi invito come al solito a cioè non vorrei esagerare cioè adesso non prendetemi troppo però chi se ne frega se ho sbagliato cioè ma non io chi se ne frega se uno sbaglia sbaglia ma pollage cioè va bene ok non è andata se fa un'altra cosa è fondamentale è fondamentale che sia così secondo me non lo so Jaco vediamo adesso ne ho poca voglia magari più avanti comunque leggeremo articoli come sempre insomma vedremo un po' di roba e quindi lì quella cosa lì una cosa una cosa interessante a proposito di YouTube è che da maggio e siamo in genna maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre da otto nove mesi io ho pubblicato centinaia centinaia di video su YouTube questa è un'esperienza che mi ha ovviamente senza me stesso dentro e non video di cui essere fieri non video nobili video furbi perché a forza di vederne sono certe cose che mi sono detto ma lo faccio anch'io che cazzo ci vuole niente infatti non ci vuole un cazzo e questa è un'esperienza è una delle cose che all'inizio mi ha allontanato dall'idea di tornare qui e anche su Wesa Chan eccetera e poi alla lunga mi ci eri avvicinato nel senso che comunque hai piacere di fare di fare cose un po' più più simpatiche però è è incredibile come YouTube a differenza di quello che dicevo un tempo vi ricordate tanto tempo fa dicevo le porte i cancelli si stanno chiudendo eccetera e ne hanno parlato anche diversi siti canali americani YouTube è ancora oggi una piattaforma che consente a un canale da zero di fare visualizzazioni allucinanti allucinanti il video che ho fatto nella mia vita con maggiori visualizzazioni non è su Wesa Chan è incredibile come YouTube come piattaforma per rimanere fresca e questo è veramente pazzesco sia una piattaforma che continua a cercare di dare visibilità a chi non è non ha niente e questa è una cosa che funziona cioè io vi invito a tenere vivo nel caso siate dei creativi a tenere viva quest'idea perché ovviamente bisogna essere furbi però funziona io ho visto talmente tanti video come anche voi penso talmente tanti video furbi su YouTube si può fare di tutto si può fare ho fatto una quantità di esperimenti in questi mesi una quantità di canali non avete idea non avete idea si può fare qualunque cosa su quella piattaforma è veramente è veramente figo però è vero che insomma vuoi anche vuoi anche tornare a fare le tue solite cose sono dei video che nessuno di voi non sono in nessun modo riconducibili a me nessuno di voi lo saprà mai Twitch è l'esatto è precisamente l'esatto opposto è esattamente l'esatto opposto sono video che vi dico solo che sono riuscito ma non ci vuole niente non ci vuole niente nulla Alberto Dev Alberto Dev perché hai abilitato la modalità solo follower per un mese Alberto hai pistolato qualcosa Alberto io ho visto che è stata è stata ok l'hai disabilitato scusa scusami tu vedo dei messaggi di quelli per lo streamer super super tranquilli e che cosa vi stavo dicendo niente che è un strumento molto potente vale la pena provare si può fare un sacco di robe è così ma si può fare di tutto robaccia robaccia eh sì Twitch è esattamente l'opposto Twitch è esattamente l'opposto sì Hertz ho visto anche che è politicamente schierato chat GPT Twitch è esattamente l'opposto ma poi Twitch non so se usa ancora se ha avuto un un crollo o cosa io sono stato veramente fuori tra l'altro dal mondo di YouTube e Twitch Italia veramente fuori ma assolutamente Rocketbird ma assolutamente tutto può tutto può funzionare non è che faccia o non faccia no le live su YouTube non solo non ho intenzione ma non posso io in quanto partner Twitch non posso fare le live su YouTube almeno così mi disse la mia referente di Twitch mi sembra o forse solo in contemporaneo non lo so ora sì ah si può ah si può figo ma perché farlo cioè l'ho sempre fatta qui no non sempre però l'hanno tolto l'hanno tolto ma funzionano le persone le guardano le live su YouTube non sto sono cambiate le regole ci sta ci sta ci sta ci sta sono meglio su YouTube ma dai ma una volta non erano un granché Twitch morirà tra qualche ma pensa grazie Rocketbird ok molto meglio YouTube ma dai beh oh 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 ma dai incredibile anima ricicla soldi russi a Dubai oddio oddio ma pensa magari vedrò qualcuno che lo fa per capire per capire meglio per capire meglio oddio a dire la verità Nick Wright ha e non solo lui fa le live su YouTube non mi sembravano tutta sta gran figata se devo dire la verità ok 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 meno pubblicità e possibilità di mettere in pausa e tornare indietro ma pensa ma dai Luca viste non mi sembravano niente di che però per gli user meglio YouTube perché è già migliorato ma non ancora il livello di Twitch ok 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 ci pensiamo ci pensiamo insomma a me poi non cambia nulla insomma sì sì so che Rick grazie Luca grazie il premio so che Rick ha abbandonato Twitch per YouTube assolutamente da un punto di vista delle live è più gamificata qua la chat ok ok non si può riscattare il nulla questo è un problema Sabaccum ha annunciato che nel 2000 mai si spostrassero YouTube ma vi voglio chiedere una cosa scusatemi ragazzi che sono stato un po' altrove non che poi abbia intenzione di rimettermi troppo anche Shia sì sì grazie al Dead Glitters grazie al Prime il Cerbero su YouTube ma veramente veramente Malfeus pazzesco ma pensate è incredibile questa cosa il Cerbero è proprio è proprio live no anche anche ma solo una volta a settimana quindi stanno facendo un test diciamo così ma pensa fanno sia l'uno ok 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 quello che vi volevo chiedere quello che vi volevo chiedere è questo è poi uscita l'anima dell'anima oscura il terzo episodio doveva uscire il terzo episodio ok 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 perché faccio passare dei mesi poi almeno sono passati i mesi ci sarà il nuovo episodio dell'anima oscura ok ok va bene ok ho capito Twitch vuole togliere il Prime pesissimo è un cambio mi hanno detto Medusa mi hanno detto mi hanno detto in realtà qualche gossip dal mondo videoludico ma come Lux ma non dicevo cazzate qualche gossip dal mondo videoludico mi è mi arriva ogni tanto mi arriva ogni tanto c'è il 4.0 veramente minchia raga veramente ma Sabaku sta ancora potenziando la linea ma scusate ma che linea è arrivata la piena automazione io me la sono persa sì 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 so il discorso sul conflitto di interessi grazie Orso Balorso grazie del Prime eh purtroppo raga sono un cretino questa live non ho le cuffie dopo domani ce le avrò perché non possiamo vedere roba su YouTube perché non sentirei nulla abbiate pazienza no vabbè ma oggi facciamo una live così test e va bene insomma dopo domani alle 14 siamo ancora in live qui ora io mi prenderò del tempo per capire sta cosa di fare le live su YouTube eccetera ma conoscendomi sarò l'ultimo a muovermi perché la mia resistenza al cambiamento in questo senso è totale diciamo non lo so cioè qui funziona poi obo eh certo certo Magin assolutamente sì è è in irvolo adesso sono con Zabu Sera Silver Surfer Silver Surfer e e Wong hai già capito ci ho pensato e Jaco ci ho pensato ci ho pensato ci ho pensato ritirarlo fuori in questo momento non ho neanche non ho neanche Steam pensate pensate voi ho addirittura disinstallato Steam dal computer è il re desiderio è uno screen da Streets of Rage 1 1 o 2 non mi ricordo ma su Google lo trovi per Megadrive però qui l'ho un po' gli ho messo un filtrino sopra un filtro un po' rossino esatto Edgar non ho commentato le elezioni credo che l'ultima live che abbiamo fatto sia stata prima delle elezioni prima delle elezioni dove sopravvalutai sopravvalutai non mi ricordo il partito dei Novax pensavo pigliassi di più per il resto poi andate come si sapeva grazie truce savior truce savior no ma sono tanti rocket sono tanti uno in particolare funzionato funziona molto bene molto bene si ma raga delle robe lucide ma delle robe proprio da vergognarsi comunque uno ha il 24% di pubblico statunitense e ha tipo l'8% di pubblico dalle Filippine per ragioni che per me sono insondate nessuno di quegli esperimenti ha un pubblico superiore all'1% dall'Italia quindi è facilissimo e non pensiate che sia lì a parlare in inglese ma vi ho già detto troppo ma sono delle stronzate ragazzi lo può fare chiunque il casino è successo in Brasile non lo so sta diventando una moda sta diventando una brutta moda quella di rosicare al punto da non accettare i risultati delle elezioni però non è che ho seguito non è che ho seguito la questione troppo sì 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 Carlo ne parlavamo prima voglio assolutamente voglio assolutamente fare una una blind e devo pensare ai titoli devo pensare al titolo da fare voglio un titolo bello un bello un pregno figo non di quelli che fanno tanti spettatori dopo anni passati a criticare chi faceva un tipo di comunicazione sulle stories enigmatico allusivo senza raccomentare perché lo hai fatto anche te per qualche mese mi sembra di avere espresso in modo molto chiaro quello che pensavo mi sembra però mi raccomando dimmi dimmi fammi esempi Fez sì Fez è bellissimo non sarebbe comunque un gioco da blind perché non lo parlo Johnson Rainward però ci vuole un gioco da blind cioè ci vuole un gioco che abbia un principio e una fine Rainward lo voglio recuperare assolutamente ma ci vuole un gioco che abbia un inizio e una fine che abbia una componente narrativa che non sia troppo da sclero da un punto di vista del gameplay che non sia troppo solo leggere testi a schermo capito devo trovare un bilancio ho visto un po' di giochi citati con titoli indie dell'anno c'è questo un gioco che si chiama Norco c'è un gioco che si chiama Norco che dicono che è un po' il nuovo Kentucky Road Zero non lo so ho visto che se ne parla la battuta l'avete fatta voi è palloso può essere può essere è spettacolare vai a una mano metti lo scudo e però ce ne sono anche degli altri Outer Whites mio Dio ci ho già giocato vi ringrazio moltissimo del consiglio perché è un grande videogioco non saprei non saprei no Returnal no ma non un non un gioco roguelite assolutamente è più parametrico Norco ma pensa a te ma dai può essere un'idea ma per dire mi piacerebbe un gioco come poteva essere anche Omori faccio per dire cioè un gioco che è bello emozionante ti tiene lì però non come poteva essere stato quel stile Baldur's Gate come cacchio si chiamava non che devi leggere i libri dentro capi che diventi matto ecco non mi ricordo neanche come cacchio si chiamava Dragon qualcosa Battaglia Navale esatto in Orco c'è molto da leggere Dragon Age Dragon Age maledizione maledizione vediamo vediamo adesso ci penso ci penso quella sarà cioè le due live le due live di martedì e di giovedì rimarranno sempre fisse talk se farò una blind sarà mattutina per quattro gatti tipicamente poi ve lo dico insomma ve lo annuncio sì sì ma mi state mi state indicando giochi che non ho giocato ma che conosco e sono assolutamente direi tra i papabili adesso vedo 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 garette ho messo via il volante il volante è in cantina e quindi garette mi sa che per un po' e se se farò garette di nuovo in futuro comprerò una pedaliera nuova perché quella ho imparato ad odiarla sì sì ricarico le live talk le ricarico su cantina le live blind run videoludiche le ricarico su weza play e e nulla come sempre come sempre trovate tutto su youtube anche questa stessa live la ricaricherò su cantina su cantina il volante in cantina esattamente esattamente esatto esatto della senpai scorno presente però non ho seguito mi ricordo di quando dovevo ancora uscire ma non l'ho più seguito e vi dico la verità adesso io non vorrei esagerare ma in realtà mi piacerebbe ma ne parlavamo già a me non mi dispiacerebbe portare final fantasy 9 la moguri mod però ho paura di un gioco troppo mattone non vorrei fosse un po' troppo mattone capito non vorrei fosse un po' troppo mattone e poi so che le fazioni si dividono in è una cagata rispetto al 10 era meglio e invece è più bello del 10 non lo so ci penso ci penso ci penso letture viola come extra serale in futuro volentieri volentieri why not si può fare si può fare ma infatti Celius mi ricordo il tuo articolo lo vorrei lo vorrei lo vorrei o vi ricordo Silicon Arcadia chi ci vuole scrivere cercare su Wesa Channel come si fa mi scriva che è il sito aperto a chiunque voglia scrivere articoli sui videogame nel caso vi interessasse e nulla e nulla e nulla allora dalla prossima live di talk metteremo a schermo internet quindi sicuramente leggeremo qualche articolo vedremo qualche video cercheremo di fare un pochino di pensiero critico una delle cose sono molto contento di Silicon molto molto non immaginavo sinceramente non immaginavo respirassi ancora respira ancora grazie a 4-5 che ci hanno dato veramente dei grandissimi contributi tra cui Angelo che era prima in chat ma in generale sono veramente contento ma sono contento perché comunque è un sito è un sito indipendente non so in quanti possano dire questa cosa molto pochi che cosa vi volevo dire cosa vi volevo dire per quanto riguarda il tornare a fare live di talk naturalmente io devo fare la pace con il ripetermi cioè mi sono reso conto di una cosa naturalmente l'intervista ad Oreficio sì 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 assolutamente mi sono reso conto di una cosa lo scrupolo del dire cose che non hai detto prima ti porta a stare zitto punto ma questo non vale solo in epoca internetiana moltiplicato per cento però tutti si ripetono si ripetono tutti si ripeteva Borges si ripeteva Biong Ciu Landis sempre le stesse cose ecco si ripeteva tutti si ripetono tutti si ripetono e mi ripeterò anch'io ragazzi io devo accettare questa cosa qui è così ecco c'è a un certo punto che vuoi fare Paganini no esatto quindi io accetterò il fatto che naturalmente le mie live sono le mie live e come tali hanno dei limiti e sti cazzi che cosa volete che cosa volete che vi dica e capisco chi mi dirà guarda mi sono rotto le palle di seguirti perché dici sempre le stesse cose che io raga sono limitato questa è una cosa che vi voglio proprio dire ma ci sta Chanille ci sta ci sta cioè fa benissimo poi se faremo delle cose insieme magari reaction a un video di morte bianca io devo dire una cosa però devo dire una cosa devo dire una cosa su morte bianca credo di averla detta ma la devo ridire a proposito di ripetersi cioè dei creator online è una delle persone che con me è sempre stata più gentile proprio di supporto io se vi devo cioè io devo essere devo essere sincero è sempre stato magnifico con me morte bianca quindi questa cosa la devo dire pubblicamente cioè indipendentemente dal fatto di essere di essere d'accordo o meno con i suoi video io poi i suoi video ho visto sempre quelli di solito legati a diciamo all'universo nerd mi è piaciuto da matti da matti il video che fece il primo che ha fatto su la psicologia di Evangelion appena mai quel video è bellissimo fece un bellissimo video sugli anime fece una classifica di anime mi ricordo ma c'era veramente della roba bella mi ricordo che c'era la malinconia di Harui su Zumia c'era Ali Grige c'era citato della roba veramente figa e poi feci quando ho fatto il video su Bioshock era un video in cui in realtà andavo contro tra virgolette il suo video su Bioshock e quello lo trovate su Esaplay io il resto roba sulla politica non le ho mai non ho mai consultato il video di morte bianca su quella roba lì quindi un po' fidandomi di chi mi dice lascia perdere un po' perché non mi interessa però lo so che è una cosa che naturalmente prendetela come una cosa che a voi non vi significa niente ed è giusto dirla a voi giustamente che cazzo ve ne frega lo dico però perché ci tengo a dirlo veramente morte bianca ma poi sentiti per vocali su Instagram poche volte non immaginatevi chissà che filo diretto però dal punto di vista umano devo dire che è una persona che mi ha sempre dato tanto quindi io questa cosa non posso non dirlo sì sì l'idea dei viaggi sì 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 assolutamente sì Barcellona tra l'altro è uno dei possibili mi piacerebbe andare a Lisbona perché costa poco andrò in primavera prima del Giappone ad Hamburgo non so se qui qualcuno grazie Pedro Sombrero a proposito se vivete in bella città europea figa e mi volete ospitare scrivetemi su Instagram così risparmia e e quindi sì no no li voglio assolutamente fare per questo vi dico l'appuntamento fisso è martedì giovedì se sono via ve lo dico salta una live o salta due esatto manzo manzo però in quel caso non è più para e quindi la mia scusa mi racconto che lo faccio per sfondare le pareti della parasocialità Teramo Luca tu vivi nella città di Dallimello quindi non lo so arrivo in macchina arrivi se qualcuno mi ospita a Parigi veramente mi scriva su Instagram che ci sto diventiamo amici nella vita reale ragazzi se volete scrivetemi non sto mica sgherzando scrivetemi su Instagram ben volentieri e quindi niente chiaramente insomma un altro dei motivi un altro dei motivi per riprendere un po' il filo interrotto a parte proprio devo dire che non è tanto un motivo è tanto per ma perché tanto per non è che ci deve sempre essere un grande motivo dietro però una ma volentieri pelati scrivetevi che ci facciamo delle gag ma anche solo una cosa di una giornata se vogliamo dopo diventate personaggi del canale una delle cose che mi riporta a fare a fare questo è che io spero certo stare qui a parlare mi sembra di essere sempre lo stesso ovviamente sono sempre lo stesso però in realtà spero di evolvere come persona e voglio siccome ho fatto tantissime riflessioni in questi ultimi mesi io sono quel genere di persone che scrive e scrive vi ricordate il video sulle origini dei miei canali io faccio sempre una marea di appunti scrivo un sacco di cose ho fatto una marea di riflessioni e voglio vedere se ho cambiato alcune cose di me magari non si vedono tanto però ad esempio da un punto di vista da un punto di vista filosofico ciao da un punto di vista filosofico sono molto 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 diverso da come ero anche solo tre anni fa per me è cambiato tanti cioè la mia visione del mondo della vita è molto 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 cambiata non a livello ovviamente misticheggiato continuo anzi anzi il contrario cioè essere una persona estremamente disillusa in realtà la disillusione è un percorso ora disillusione è una parola che ha una connotazione negativa perché disillusione ti sembra una persona triste a me viene da ridere ogni tanto quando le persone mi scrivono nei commenti voi dice sei depresso io ve lo dico se sono depresso ho mai stato depresso per fortuna la disillusione non intesa come niente ha senso va a fanculo no la disillusione come libera liberi oltre le illusioni ma sul serio liberarsi delle illusioni è facile avere le mamme pancine dei tuoi sogni cioè quell'interlocutore scemo è facile per noi criticare un certo tipo di dogmatismo è una cagata non è neanche più tanto interessante anche se lo faremo sempre per divertirci liberarsi delle illusioni e dei dogmi per così dire per me è una cosa è un percorso profondo cioè richiede analizzare le proprie credenze e cercare di capire dove dove sei ancora nell'illusione qui sarò invece un po' buddista ma sapete che è buddista per modo di dire prendo soltanto a prestito della terminologia che però è ben ben piazzata sei ancora nell'illusione dell'ottenimento cioè per me la filosofia diciamo così non è una facoltà e non è neanche non sono neanche libri di Kant cioè è un percorso cioè io devo lavorare su me stesso se no ma che cazzo me la frega capite ad esempio una cosa per me anche diciamo degli ultimi mesi ma riflessioni che magari ho sempre fatto però tra farle e interiorizzarle la religione degli atei qual è degli atei nel senso di non l'ateismo è come una religione nel senso che gli atei sono dogmati no non queste stronzate nel senso in cosa crede chi non crede c'è pure il famoso dialogo fra Eco e Carlo Maria Martini ed è giusto crederci tutte le nostre questo mi viene in mente V di Alla quando diceva che non gli fregava un cazzo di quello che la gente avrebbe pensato dei suoi film dopo la sua morte e mi viene in mente avete presente Tim Urban che forse si dice Tim Urban non lo so insomma comunque quello del famoso blog Wait But Why lo conoscerete perfettamente ha fatto un tweet col fatto che seguo l'NFL ultimamente seguo anche Twitter pensate come sono ridotto ha fatto un tweet ma solo tre cose in croce ha fatto un tweet che è un po' particolare un po' diverso forse dai suoi soliti lui ha detto lui ha detto questa cosa scusatemi ma è soltanto un riassunto una parafrasi lui ha detto questa cosa qui ha detto quando tu muori è come non so se ha detto è come insomma quando tu muori raggiungi la morte termica dell'universo che cazzo vuol dire perché non vai da nessuna parte ma è come se raggiungessi la morte termica dell'universo che è una boh metafora che uno sul momento e infatti lui è sempre molto amato da chi lo segue le repliche erano ma no ma come ma che no in realtà è un tweet che mi ha assieme a tante altre riflessioni mi ha fatto molto riflettere sulla sulla fede nel post sulla fede intorno a ciò che riguarda quello che seguirà la nostra morte mi rendo conto come persona che onestamente grosse fedi non ne ha che questa è non è tanto una fede è la buona creanza l'etica comandata di chi non vuole di chi comunque non si illude e non è una cosa che io apprezzo senza per questo dire allora che cosa me ne frega vado in giro a cagare per terra per la strada non intendo questo non voglio che nella mia mente l'inverificabile il il fantasioso puramente meramente narrativo occupi uno spazio che di fatto è uno spazio decisionale è una cosa che mi una una certa etica umanistica no che io ho sempre che è sempre stata la mia del passaggio di consegna il 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 testimone alle generazioni che seguiranno ora mi ripeto non è che per questo voglio andare a buttare la plastica nell'oceano capiamoci però tutto questo questo modo di ragionare è basato sulla totale inverificabilità di ciò che accadrà appunto discorso metaforico la morte termica dell'universo il momento della nostra scomparsa ed è una narrazione favola ovviamente tutto ciò che noi proiettiamo post morte nostra ok è favolistico è favolistico illusorio rose e fiori no tutto così con questo non voglio dire che bisogna essere stronzi è che non bisogna essere illusi è una cosa che per me è capitale di grandissima importanza perché la vita è un un respiro un battito di ciglia non mi piace non mi piace scialarla per stronzate che poi intimamente so che sono stronzate ok mentire a se stessi è la cosa peggiore e quindi sono alle prese ma alle prese già mollate le prese con il liberarmi di quella che è riassunta male la classica etica laica del dell'umanesimo e come Eco stesso diceva quando nella piccola metafisica portatile diceva tu passerai agli altri e farai le cose che qualcun altro continuerà continuano gli altri l'etica del continuano gli altri giustamente Eco diceva c'è qualche coglione a dire che questa non è religione appunto appunto sono molto meno echiano di un tempo ecco e quindi niente queste sono 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 riflessi come colloco Marvelous lo colloco la sera prima di andare a letto e queste sono riflessioni che sto facendo perché nella mia esperienza tutte le volte che scopro di essere un illuso e quindi me ne rendo conto e quindi di conseguenza mi libero di quell'illusione perché una volta che la vedi come tale non ci riesci più a credere è banalmente un'esperienza non so di un rilascio di endorfine che cazzo ne so è una cosa che mi mi fa stare molto bene molte persone attaccate ai loro idoli ok vedono nella disillusione così come l'ho descritta qualcosa di terrificante di pauroso di spaventoso di depressivo da combattere a tutti i costi e invece io ogni volta che esperisco il dissiparsi di un'illusione ho la gioia della libertà e della felicità mi sono attraversato da una da una sensazione di leggerezza e di di migliore vivibilità della vita il mio problema il mio problema è sempre questo come si fa a vivere è un problema importante ogni volta che togli un peso come Goku che si toglie i cosi gli anelli pesanti e poi dopo fai mega salti ogni volta ti togli un peso che è meraviglioso togliersi nella più semplice basilare basica consapevolezza quella che ha chiunque cioè quella che se togli le stronzate tutti sappiamo le stesse cose c'è una c'è la possibilità di vivere bene di vivere liberi anche perché il dolore la sofferenza se si possono evitare meglio arrivo a dire e qua cito alcuni miei appunti recenti che nella vita ha ragione chi non soffre nei limiti del possibile intendiamoci nei limiti del possibile e in seconda battuta chi gode non so mi sento molto più leggero è un percorso sono sempre più orientale in questo e anche perché invecchiando si si interroga intorno alla vabbè io mi interrogo come tutti noi intorno alla morte fin dall'adolescenza però interrogarsi intorno alla morte non è più interrogarsi intorno a qualcosa che fa figo parlarne magari al pub magari con qualche ragazza al tavolo no inizia ad essere qualcosa che insomma è sempre meno un pensiero astratto bisogna saper saperla accettare e saperci si avvicinare e bisogna assolutamente a mio avviso demistificare la vita per morire serenamente e e questo è il mio voglio vedere se sono riuscito a diventare una persona che soffre di meno nel senso che pretende nulla da perdere nulla solo da rendere la vita così gradevole interessante stimolando la curiosità ad esempio da renderla preferibile alla morte e questo è un ragionamento e uno dice oh sei depresso la depressione non ce la si può fare a parlare della morte e questo è un ragionamento importante perché non solo dobbiamo essere in qualche modo consci di che cos'è la vita e del fatto che la morte in qualche modo è la verità sulla vita ma dobbiamo appropriarcene questo è molto giapponese dobbiamo veramente appropriarci della nostra morte ora non necessariamente facendo come Mishima ma è ovvio che quello sarà sempre un caso molto interessante stabilirla collocarla nel tempo sapere come la si eseguirà un po' maniacale se vogliamo però capisco le motivazioni è estremamente importante iniziare a ragionamento io ci sto pensando non a fare come ha fatto lui ma penso sempre più spesso ok ma quali saranno le circostanze della propria impossibile saperlo quali saranno le circostanze della propria morte come si può appropriarsene come si può farla propria come si può davvero vivere come come colui che è già morto come era il Tao Te Ching il tizio che dice nella battaglia attraverso il campo di battaglia sapendo di essere già morto adesso non mi ricordo c'è la famosa parabolina sono cose della massima rilevanza sinceramente mi sto sempre di più allontanando dal non dal ragionamento logico ma cerco di allontanarmi dal giudicare tutti noi giudichiamo ininterrottamente il nostro pensiero è fatto di giudizi non è questo il punto però quando quando tu hai quando inizi a vedere davvero per quella cosa ridicola che è anche patetica o che fa tenerezza che può anche commuovere l'etica del continuano gli altri inizi a capire che è l'ultima favola che ci si racconta quando non ci si riesce più a raccontare favole ma per buona educazione non si sa perché si deve sempre vivere con una favola tutto cambia tutto cambia e nulla cambia nulla cambia nel senso che tu rimani lo stesso ma la tua accettazione è diversa e penso spero maggiore e quindi sono curioso di vedere si prova a vedere le cose in realtà è vero quello che dice il re desiderio la scelta di vivere guardate questo è un discorso che ho un ragionamento che ho fatto anche io anche con un amico abbiamo condiviso questi ragionamenti la scelta di vivere piuttosto che morire è una scelta di grandissimo rischio perché tu ti esponi davvero alla tegola che ti cade sulla testa in ogni momento o per meglio dire la scelta di vivere piuttosto che morire e tu dici beh la mia vita non mi arreca una tale sofferenza è un tale dolore ragazzi il ragionamento di è nella vita ragione che non soffre piuttosto che soffrire data tal tot tale sofferenza che è sempre soggettiva meglio morire è alla base dell'eutanasia perché nella scelta di vivere piuttosto che morire c'è sempre un accollarsi dei rischi allucinanti l'accollarsi non è tanto morire d'un colpo chi se ne frega è accollarsi il rischio di un dolore dal quale non ti puoi più liberare autonomamente soprattutto in un paese come il nostro può essere può essere problematico David Benatar non lo conosco ma immagino che non invento nulla ovviamente vivendo si muore esattamente ovviamente è il solito è il solito discorso ma vediamo ma il non è non è che una vita ora la sofferenza è inevitabile John Chong assolutamente ma il punto è quanta è sì che è nicciana assolutamente sì non è caso è quanta e quale e non è che se uno non soffre gode godimento è una cosa potremmo immaginare è una semplificazione un po' del cazzo me ne rendo conto sofferenza assenza di sofferenza godimento sono cose diverse puoi godere anche quello molto soggettivo eccetera eccetera però credo che il motivo per cui invecchiando uno inizia un pochino a sbatterse è perché ridimensiona se stesso inizia a capire che la piccola finestra della nostra vita non vedrà quasi sicuramente risolta nessuna delle grandi questioni intorno ai quali ci siamo smazzati ma soprattutto perché veramente ti domandi io voglio fare sì che la mia vita continui ad essermi continui ad essermi grata è condizione necessaria al vivere il fatto che la vita mi piaccia per me ho perso moltissimo l'ammirazione che mi l'ammirazione senza mai avere voglia di emularli verso i rispetto per il personaggio che ho adorato e adoro però verso i Kobe Bryant ok verso i Dwayne Johnson ok in questo grazie Tolia grazie mille in questo anche il buon Byung Chul in questo mi piace lui quando parla del soggetto di prestazione mi piace molto come definizione un po' francofortese però è efficace mi piace meno quando parla di capitalismo che mi fa cadere le palle però sono dei passaggi fantastici questa idea dell'ottimizzarsi tante volte in passato per dirvi appunto che sono una persona che cambia molto tante volte in passato ho parlato della versione migliore di te stesso in linea di massima detta così non vuole neanche dire un cazzo quindi uno dice vabbè ci sto però di solito qual è la versione migliore di te stesso è la versione che produce di più la versione più produttiva la versione che si fa di più il culo che ottiene più risultati eccetera eccetera sono una illusione una stronzata più grande dell'altra ho totalmente abbandonato non è mai stata davvero mia ovviamente questa filosofia ma ho totalmente abbandonato l'invidia o l'ammirazione per chi la incarna lo trovo mi sembra la più pura disperazione la più pura inconsapevolezza e la più pura procrastinazione non della della verità per quella che si rivela essere ma della presa di coscienza però questa è la mia è la mia visione lo so Mirko lo so ma spero che ci sia qualcosa di buono comunque dentro quel video ma per certi versi la migliore versione ora non c'è nessuna ovviamente è una metafora inutile dire non esiste nessun'altra versione di noi stessi però la migliore versione di me stesso è quella che vive la vita più più meritevole di essere vissuta per quelli che sono i parametri del me stesso o del caso tutto qui comunque sia si va si va si va ma insomma poi ripeto si cambia anche perché è inevitabile è inevitabile cambiare è inevitabile o inevitabile lo vedo è una una regolarità che registro età diverse tendenzialmente hanno filosofie diverse è molto difficile che una persona della mia età abbia le illusioni e le tensioni di una persona di 25 anni è molto molto difficile se siete più giovani di me non significa che voi stiate avendo una preview ok non conosco molte persone con il mio approccio l'approccio che generalmente vedo intorno alla mia età diciamo così è un approccio di indurimento quasi anchilosi quasi irrigidimento intorno a illusioni per cui non sarebbe più tempo non sarebbe più tempo perché in qualche modo la realtà incalza e incazza comunque vedremo 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 vedo Pippo Civati citato in chat e capisco che stiamo seguendo due binari no ma ci sta ci sta ci sta ci sta ma e ti dico Riccardo o anche il macigno di Sissifo vi dico molti di questi ragionamenti no non ho letto molti di questi ragionamenti li ho sempre fatti cioè la differenza non è sul fare ragionamenti la differenza è iniziano ad essere comportamento iniziano ad essere condotta o rimangono ragionamenti per fare il video su youtube e questa è la differenza a me sembrano più disillusi i giovani in realtà ma forse dipende ed è anche molto probabile che la generazione mia sia diversa dalla generazione attuale anzi è certo quindi parlo parlo per per me ho letto Nietzsche sì 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 recentemente ma non recentissima ho letto quello che avevo già letto le ultime live che abbiamo fatto non l'ho poi continuato a leggere sapresti dire se nel complesso sei più felice adesso rispetto a quando avevi 25 anni a 25 anni hai tanta euforia no io hai perché devo parlare per tutti i 25 anni chiedo scusa a 25 anni ero una persona con più euforia più slanci tendo comunque ancora ad essere una persona da slanci euforici ma ne avevo molti di più e poi ero una persona molto più passionale da un punto di vista delle relazioni interpersonali perché i primi amori io ho avuto una grandissima storia d'amore dai 18 ai 28 è stata per me una cosa intensissima e bla 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 ero più felice? no ero un treno in corsa verso una crisi che poi ho avuto intorno ai 28 29 grazie Scott grazie mille e giustamente che cosa intendiamo per felicità soprattutto non va confusa con l'euforia perché come dice giustamente Bium Chulano ma è vero l'euforia è la prima fase del burnout quindi attenzione all'euforia bisogna fare con quello che si ha al momento è inutile cercare di emulare epoche che sono state vissute con un cervello diverso quindi non c'è molto da fare in questo senso si può prendere ispirazione di qualcosa che piaceva di una forma mentis che si aveva o di qualche capacità che si aveva oppure il contrario dire quella cosa lì mai più ok però cioè anche il discorso degli occhi del bambino l'innocenza o che cazzo ne so io lo spensieratezza cioè è sempre molto metaforico cioè tanto non non è replicabile e anche per fortuna perché poi comunque la memoria fa tutti i suoi giochi loschi e sporchi figuriamoci ci sono sono ispirazioni che si prendono è così è così ragazzuoli sì io credo John Chong credo esatto guarda l'hai scritto anche te serenità serenità è una parola sì perché felicità non si capisce mai che cazzo voglio dire felicità assomiglia troppo a euforia troppo a entusiasmo troppo a uno stato che se è come di solito lo si usa per sua definizione può essere solo breve così serenità è una cosa già una parola che uno dice essere sereno oppure si potrebbe dire essere destressato sto lontano dallo stress fumo un poco e dopo gioco a PES pensare sì sì l'ho letto ma tipo cent'anni fa sì sì Reitano why not e così quindi insomma di solito ultimamente parlando con vari amici eccetera dico che non sono mai stato così bene nella mia vita e quando una persona mi chiede come sto negli ultimi mesi tendenzialmente questa è la mia risposta persino io che sono uno così che se la prende per le cose o che comunque se ne mette molto eccetera eccetera persino io sto riuscendo a liberarmi sembra funari di guzzanti molto liberatorio persino io sto riuscendo a liberarmi cioè sento che persino una testa di cazzo come me il passaggio del tempo davanti ai tuoi occhi sortisce un qualche effetto credo sia un effetto positivo o negativo un effetto in qualche modo fisiologico nel senso che non voglio assolutamente assomigliare agli illusi come sapete a me non interessa mai davvero il merito delle questioni mi interessa il metodo ma mi interessa il metodo nel senso che guardo alla persona e a come vive pensate al mondo degli influencer online tu vedi le persone che dicono delle cose ma come vive questa persona com'è la sua emozione come giovanotti che aveva il problema della depressione e tutti i suoi tesi sono pensato positivo e figata eccetera e io lo capivo benissimo che lui era un depresso per me quella è la quintessenza del depresso a me interessa cercare di vedere l'umano e quando vedo il Dwayne Johnson The Rock ok per me quell'uomo incarna la disperazione certo il suo conto in banca non è male ma non lo so leggo nei suoi occhi nello specchio dell'anima non lo so non solo non è un modello ma tutto ciò che lui incarna per me è un dismodello un modello negativo è sempre di più così è così always meet always meet assolutamente sì assolutamente sì non lo so John Chong perché credo che conti molto negativamente per chi è per così dire alle strette da quel punto di vista io nella mia vita ho sempre cercato di e ho sempre potuto stare in una specie di via di mezzo figa come si diceva all'epoca dei picchiadura scorrimento c'era il nano il guerriero la via di mezzo figa il mago il guerriero la via di mezzo figa quindi è difficile rispondere penso che per ognuno sia diverso Gesù conta tantissimo Gesù è la chiave Gesù è la risposta me ne han parlato di questo libro della sinagoga degli iconoclasti esistono persone buone in senso eroico boom i gatti aiutano tantissimo i gatti aiutano tantissimo veramente non saprei rispondere risponditi paperone 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 perché sono molto in difficoltà su buone hai messo le virgolette ma rimango in difficoltà enormi i gatti aiutano i gatti sono i gatti sono una rivelazione per me che non ho mai avuto animali anche se li ho sempre adorati i gatti sono sono una rivelazione sul serio sul serio con l'allergia va benissimo zero zero proprio zero un'altra cosa importante ora noi siamo su internet e voi siete una siete persone però siete in questa comunicazione voi siete una chat e io sono quello che sta a parlare cosa succede online e anche qui c'è molto cose con cui mi voglio misurare i social sono vedi anche i discorsi che facevamo prima di quella shitstorm per skip bailes eccetera eccetera i social sono estremamente reputazionali sono tutto tutto un tirarsela tutto un vantarsi tutto un mettersi in posa eccetera eccetera è tutto un mettersi in posa nel momento in cui nel momento in cui un pubblico esprime una tensione verso qualche cosa che è figo viene spontaneo a contentarlo viene spontaneo è come essere sempre alle scuole medie è come essere sempre al liceo è come andare sempre in classe ve lo ricordate alcuni di voi magari ci vanno ancora c'è la persona popolare c'è la persona che non è tanto popolare ma cerca di essere popolare quello che cerca di piacere in un modo quello che cerca di piacere in un modo trasversale quando noi analizziamo i nostri valori quali sono i valori importanti per te o per me eccetera eccetera quanti dei valori che riconosciamo importanti per noi stessi sono finalizzati al piacere agli altri quanti dei valori che noi riconosciamo essere importanti per noi stessi sono finalizzati a persuadere gli altri cioè predicare al di fuori della persona che vediamo nello specchio tutte le mattine non facile non facile non facile però bisogna crescere bisogna crescere secondo me in questo senso e le live saranno martedì e giovedì alle ore 14 quindi ci vediamo dopo domani ci vediamo dopo domani e vorrei farle vedo che sono in live da 1 ora e 53 vorrei farle lunghe così non vorrei fare le live di 3 ore ma di 2 ore anche per facilitare un po' youtube chi recupera su Cantina Waze però anche per non voglio fare un pochino più compatte un po' meno faticoso anche faremo poi anche altre live queste qua saranno di talk poi adesso oggi non ho le cuffie quindi non guardiamo cose su internet ma poi le guarderemo ma voglio fare anche una blind come vi dicevo sì 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 su Instagram su Instagram sì 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 esatto assalitore Code Gears e anche Metal Gear Solid 3 in quel caso comunque ragazzoli io vi ringrazio molto vi ringrazio molto ci vediamo dopo domani iniziamo a guardare un po' di articoli un po' di video facciamo delle chiacchiere se avete dei temi da sottoporre volentieri come sempre io se riesco vi vengo a traino e vediamo se nasce qualcosa e nulla per quanto riguarda Waze Channel farò video in esterna e se capita di fare video in interna farò video in interna senza preoccuparcene minimamente vi ringrazio tantissimo per aver seguito vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto siete molto cari e ci vediamo dopo domani giovedì alle 14 voglio mettere una sigla finale perché prima me le sono riguardate e non potete capire sono stato molto nostalgico grazie frattone grazie mille e quindi mettiamo la sigla finale ciao ragazzi a dopo domani non sono un amante di lo schifo non sono un amante di rock non sono un amante di tofico non sono un amante di gravi oh no e bebe quanto blu quanto blu quanto blu fai a zappare ma non dovevi che c'è ci penso io adesso yeah sono un amante di spappa saibo ma dove cazzo spari saibo il detacca è uno che ti chiama col numero privato ma tu sai chi è è l'unico che lo fa pronto? pronto il detacca? si? oh no stiamo scattando No non 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 No non 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 Alza di coglione Prima cura, prima cura Ma tu che cazzo vai? E' meraviglioso che c'era proprio un amico che c'era E' proprio un amico che c'era proprio E' proprio un amico che c'era proprio No! Porco Dio Ma stiamo scattando Chi tommeno Chi no me lo Grazie a tutti